Cari amici, oggi vi invito ad avvertire in modo caldo, tangibile, affettuoso, la mano di Dio posata sulla nostra spalla, meglio a sentirci portati sulla sua spalla. Attraversati dal calore di questo gesto tenero di Dio, ripetiamo più volte durante la giornata uno dei versetti del Salmo responsoriale della celebrazione eucaristica di oggi. Stiamo attraversando la valle oscura, di giorno in giorno avvertiamo la complessità del momento, carico di sofferenze che si sta presentando sotto gli occhi di tutti. La nostra fiducia in Dio non la scambiamo certamente come una polizza assicurativa contro i rischi della vita. In ogni caso, però, sappiamo che in tutto ciò che ci capita, anche se non voluto da Dio, Dio è con noi, dalla nostra parte, per affrontare tutto con Lui. Andare per valle oscura richiama anche l'esperienza del buio. Il buio fa paura e mette in una situazione di essere indifesi, come di fronte alla morte, come è accaduto a tanti nostri compagni di viaggio durante questo snodo terribile della storia dell'umanità. Il versetto è tratto dal Salmo 22 che parla del pastore e dà l'immagine di un gregge che cammina di sera mentre diventa sempre più buio, mentre la paura cresce perché cresce l'esperienza della morte. Il gregge va con il pastore che ormai non vede più perché si è fatto buio, ma lo sente perché il bastone fa rumore e segnala la presenza e anche perché il pastore con il bastone tocca il fianco delle pecore per dare loro la direzione. Le pecore possono attraversare una situazione di massimo pericolo con il segnale della presenza del pastore che esse percepiscono in quel suono che echeggia e in quel tocco sul fianco. Questa immagine, mentre attraversiamo questo tunnel, sia per noi il segno della presenza di Dio che ci fa da punto di riferimento per poter anche camminare attraverso l'angoscia della distruzione, sicuri della salvezza che il pastore ci dona. Nel frattempo proseguiamo il cammino e con la nostra preghiera cerchiamo di forzare l'aurora di un tempo nuovo che sorga quanto prima. Buona giornata. Buona giornata.